La situazione nella nostra zona è felice, diciamo che il fenomeno Prosecco sta aiutando tutti e sicuramente il popolo veneto non è un popolo che si deprime, siamo comunque aiutati da questo fenomeno Prosecco, il Prosecco superiore lo stanno cercando un po' dappertutto, per cui viva il Prosecco, lui è leggero, è frizzante, è solare, per cui sta bene con tutti, non è scontroso, non ha bisogno di tanti impegni, non si può portare il territorio fuori dal territorio, possiamo portare il Prosecco e la gente che lo produce fuori dal territorio e cercare di far capire un attimino che c'è Prosecco e Prosecco, spumante, spumante, territorio e territorio. Personalmente mi piace quasi di più girare che essere in cantina, io i miei giorni in cantina li passo al sabato o domenica a vedere cosa fa l'enologo quasi di nascosto per cercare di capire, altrimenti a me piace andare in giro e propormi e proporre il mio territorio. Possono fare un vino frizzante o spumante, tentare di clonare il Prosecco, però il territorio, le zone, le persone che si muovono non le clonano, per cui io sono molto fiducioso sui giovani italiani e penso che l'importante è farli crescere bene in un ambiente, in una bella Italia, ecco cerchiamo di fare quello. Italia.club, ciao, ciao, statevi bene!